Oggi ci troviamo in una casa tutta particolare, si tratta di Villa Anna, che fu costruita dopo la metà dell'Ottocento dall'Avvocato Mibelli di Livorno e si chiama Villa Anna perché il regalo alla moglie è che si chiamava Anna, pertanto la villa è rimasta Villa Anna. Siamo venuti qui perché qui c'è il giardino all'italiana più bello forse che c'è all'Isola d'Elba, più bello perché è costruito in un modo geniale, pensate che si passa in questo sentierino, si può cogliere delle rose, si può pulire e sistemare il giardino e non viene mai calpestato il punto dove ci sono dentro gli alberi. Ora è un momento in cui le rose non ci sono più e i fiori cominciano a essere ormai agosto inoltrato, pertanto non c'è più quella fioritura, ma faremo qualcosa a primavera per far vedere veramente che cos'è un giardino fiorito come questo. Questa è veramente una cosa affascinante. Pensate che tutta questa zona veniva annaffiata dall'acqua che veniva recuperata dalle piogge. E come veniva recuperata? veniva recuperata con tutti questi canali che ci sono che poi andavano a finire attraverso una botola qui dentro questo pozzo, questo pozzo dove c'è ancora acqua oggi che serve proprio per annaffiare il giardino. Un giardino tutto funzionale in questo modo, poi da sopra dove ci sono i depositi, poi veniremo anche a vedere lì dove c'è il pozzo più grande con tutte le canaline che fanno entrare l'acqua, si era creato queste ricchie, questo è stato fatto dopo, ma da qui usciva l'acqua comunque come se fosse stata una bocca di drago che faceva cascare, uscire l'acqua. Questo è il sistema di come è fatto questo giardino. Ma siccome si sta parlando di giardini e di case belle in questa nostra avventura della fondazione, raccontiamo queste cose, poi faremo anche una pubblicazione e veniamo sempre in posti dove ci sono alberi importanti. Qui il giardino è diviso in più sezioni, in questa sezione qui c'è ad esempio dei pitospiri che sono abbastanza grandi e anche vecchi. Ma adesso andiamo dall'altra parte dove si vede l'altra parte del giardino dove c'è una magnolia che è veramente una cosa esemplare. Io non ho mai visto una magnolia così grande in mezzo a questo giardino così bello che più o meno ha la stessa caratteristica dell'altro. Dicevo un giardino all'italiana proprio degli anni Ottocento e qui c'è il solito pozzo come quello di là dove c'è il recupero dell'acqua e questa è la magnolia. Guardate che pianta, che bellezza che è questa pianta. È una cosa incredibile e non c'è la fioritura. Quando c'era la fioritura con tutti quei fiori bianchi era una cosa da fantascienza. Ora non abbiamo portato nel caso di questo ma per il censimento verrà misurata con tutti i criteri che si fa quando si misurano le piante ma è una pianta che veramente va vista. È di una bellezza unica. Guardate quanto è grande. prende tutto il giardino che sicuramente è una trentina, 40 metri di grandezza. Guardate che bellezza e come è ubicato questo giardino. Anche guardando da fuori, guardate tutti i punti hanno fiori da tutte le parti. Ma noi per fare una cosa ancora più bella ora ci spostiamo verso la facciata della casa dove c'è una lecceta. Una lecceta che è stata mantenuta. Lecci che hanno sicuramente i 150 anni. Ora andiamo a vedere i giardini sopra e lasciamo qua queste ortenzie che quando sono fiorite per bene sono veramente una cosa da fantascienza. Ma vi voglio farvi vedere un'altra cosa. Come cresce l'Europa in questo punto? Guardate questo cedro. Guardate che bellezza. Ha dei cedri che sono favolosi. Naturalmente guardate qua sotto, guardate questo, guardate bellezza. Guardate che bellezza questo cedro. Ecco questa è veramente un paradiso. Questa è l'entrata centrale perché ci sono anche altri due punti da dove si entra la casa e da questo punto pur essendoci questa siepe così si può vedere dall'entrata della casa un quadro di Portoferraio. Cioè qui da San Giovanni si vede bene perché la villa come sapete si trova a San Giovanni e qui proprio davanti alla villa ci sono questi lecci enormi. Guardate che belle piante e come sono state curate. Un giardino curato con grande amore e che nel succedersi delle generazioni che sono state qua dentro ognuno ha pensato di curare queste piante. Guardate questa magnolia chiusa fra le altre piante che la tengono stretta e andate a cercare la luce marto. Guardate quanto è grande. È una pianta enorme che misureremo anche l'altezza a sua volta in mezzo a lecci che la seguono verso l'altezza. Questi lecci sono veramente una cosa eccezionale e qui la sera poi è ancora più bello perché queste sono le luci che le illuminano e qui dentro è veramente un paradiso. Io devo fare complimenti all'ultima erede che è qui perché sono passati diversi. Addirittura questa villa era stata una villa abitata anche dal Dottor Bandi che fra l'altro era il biomedico, mi ricordo subito dopo guerra quando veniva o anche prima della guerra quando veniva a casa perché era il medico condotto e addirittura veniva chiamata anche Villa Bandi, però non è Villa Bandi perché la villa è Villa Anna, mi belli. Guardate le piante come si sono, questi sono lecci, guardate il ciocco del leccio come è fatto. Il leccio andrà a cercare la luce perché essendo tanti insieme e qui si vede proprio come è stato curato. Guardate questo leccio fra i tanti, questo sicuramente è il più grande che c'era, ma ha avuto dei problemi perché dei vermi l'hanno bucato qui dentro e allora è stato tagliato in questo punto, guardate che taglio, cioè era enorme questo ramo e si era salvato questo ma poi alla fine hanno dovuto tagliare anche questo. Questo è il problema, guardate questa roba qui sono dei bachi dentro che se la mangiano e se c'è qualcuno che vede la trasmissione e sa che cure bisogna fargli e se me lo fa sapere vediamo di sistemare queste piante perché così campano lo stesso tanto, però se le aggiunghiamo la vita forse è meglio. Ora facciamo dei passi davanti alla casa per vedere come è gestita intorno. Da questa parte si va proprio all'entrata della villa e guardate che bellezza, tutti questi vasi è tutto ordinato, proprio sembra i giardini proprio curati in un certo modo e guardate questo vecchio cane, è vecchissima questa statua, guardate che bello, ci sta proprio bene qui, sembra che faccia la guardia alla casa. Passiamo da questa parte andando verso il retro, qui a primavera è una cosa da fantascienza, comunque è molto bella anche adesso. E qui è il punto da dove si vede Portoferraio, c'è questa questa serie di cigas qui e lo sfondo di Portoferraio. La magnolea si è ingrandita così tanto che Portoferraio si vede meno, ma qui c'è proprio tutte le fortezze davanti con Portoferraio e le barche che spiccano sul mare. Qui ci troviamo nella parte esterna della villa e guardate questo ingresso che poi è parallelo a quello della parte davanti, guardate che bellezza, questa pergola con questa vite americana e soprattutto il pozzo con l'acqua, questo è il pozzo che raccoglieva tutta l'acqua, poi da quei canali che ci sono lì sotto l'acqua tracimava sotto per poter annaffiare anche il resto. Ma questo è il giardino delle rose, non sono fiorite, ma ci veremo a fare un penso quando sono fiorite. Guardate che rosario, in che modo è messo, come sono perfette le aiole che ci sono intorno e i muri che sono coperti tutti di fiori, è veramente una cosa affascinante. Ecco, guardate queste due cigas, queste non so, non so giudicare l'età, ma guardate l'altezza di queste cigas e come sono curate, cioè da queste si vede l'amore che i proprietari di questa casa hanno per le piante. Per finire vi voglio far vedere come sono le mura intorno a questa casa. Guardate queste colonne come sono curate, è veramente una cosa meravigliosa. Io spero di farvi piacere facendovi vedere questo spettacolo perché a me è piaciuto veramente tanto. Arrivederci alla prossima puntata.